ma ciao fratello come sai c'hai dei tic alle braccia fa male alla schiena muoversi così ecco bravo bella a tutti ragazzi bella un cazzo non sei così gnocca però vabbè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono favij lei è samantha ciao sammi saluta non fare la maleducata che si saluta prima di cominciare inutile che fai così niente eh incazzata oggi siamo su project frequency che sarebbe una roba strana facciamo una modalità horda che ragazzi devo sopravvivere a un dati di nemici vabbè almeno questa è una roba un po' più easy spiegatemi il senso di questo gioco ma vaffanculo e non funziona le pistole allora madonna di quella madonna te la do in testa te la infilo su per il pene se non spara mi incazzo una lattina certo vaffanculo vaffanculo devi morire tua madre anche e vabbè fatti cazzo sono raga ok no e no e no prendi sta roba veloce e voi da dove cazzo spuntate io non ho visto niente se ti fai accoltellare stando fermo per cortesia mi fai sto favore vi prego no niente si deve muovere perché sennò c'ha la mamma che gli puzza bravo ok è morto bravo ingroppatevi che adesso ci penso io oh che dolci guarda come sono bellissime fatti fatti accoltellare bravo pam è morto vabbè dai ci avete provato tu stai fermo fermo ho detto fermo mi tocca sono morto mi tocca sono morto cosa cosa cazzo è successo faccio coltello ammazzo fratello c'è una roba pazzesca il bello è che è un'ondata sola che ho fatto cioè ne facessi 2000 cazzo non è facile il whisky io devo offrire da bere la faccio a superare la prima ondata un martello sono torno la carta igienica grazie a dio ah eccolo bastardo fatti vedere samantha samantha cosa fai samantha giu samantha sits devi stare giu oh mio dio quanto sei bella samantha l'ascoltami guardami guardami faccia pam non muore ragazzi non crepa aiuto come muori ma vaffanculo sentite mi sono rotto il cazzo è stato bello facciamo survive non ho capito bene il senso di sta roba comunque è un gioco horror che sembra fatta abbastanza bene ovviamente non sappiamo come ci siamo finiti in questa cosa ah si chiarisce tutto eravamo in un cesso solo che manca il cesso si può uscire permesso cosa è sta roba perché c'è gente che è brutta e che corre io c'ho un accendino e ho da accendere se vuoi fumare non so eh chiedo sei nudo quindi non fare movimenti brutti ascolta zio e ti do è quello dell'attacco dei giganti sto tizio ascolta zio e ho un accendino porca la mignotta è iniziato perché te la prendi con l'erba che cosa t'ha fatto l'erba ascolta zio e non so correre è un problema mi sto seguendo un maniaco sono morto quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e come al solito se il video vi è piaciuto vabbè dai bello mi piace ciao zia allora c'è gente nuda questa cosa bianchiarita ma cosa serve sta cosa c'ho delle pistole salve sette giorni qualcosa del genere non lo so quanto sei bella zia un po di meno di eyeliner andiamo avanti perché ancora un coltello fatemi andare un attimo a prendere la coltellata allora senti zio mi stai sul culo perché è ovvio come le date voi le coltellate così ragazzo sei un genio del combattimento corpo a corpo fatelo dire madonna che coglione che so sono morto ma si può essere più rincoglioniti di così senti zia mi serve il coltello fatemi usare sto coltello che non ho capito l'ho preso l'ho preso è morto perché è diventato un wuster delle gambe sexy a dir poco credimi tanto ragazzi se premo il tasto destro zoom con gli occhi cioè lui ha lo zoom incorporato nel cervello bellissimo cos'è? le pasticche ah beh mancava solo questo munizioni per la pistola avessi una pistola sarebbero utili se no posso infilarmeli tutti nel culo qualcuno ha lasciato la tv appena accesa ah sei stata tu brutta stronza dillo perché uno ovviamente si siede sulla sedia e guarda il panorama che è veramente figo qualche bel tramonto romantico qualche storia senti zia guarda quel tramonto è solo per noi volevo dirtelo ma si è scaricata la torcia illuminiamo col nostro amore a parte le munizioni ragazzi c'avete delle pistole il carrello dell'ikea ragazzi qualcuno ha una pistola qua dentro permesso aspetta un cazzo oh ma salve sembra tipo la roba di io sono leggenda quando entri nelle case ci sono i cosi brutti i mio sono leggenda avevano un fucile io non ho un cazzo salve permesso ancora cos'è? stai davanti allo schermo carica la tua coscienza carico anche il problema è che non ho la connessi c'è la fibra le frecce devo diventare catniss scatola di cracker ragazzi sono salvo zio sei su facebook? se ti fai dei selfie ti faccio il flash eh così ecco vengono meglio guarda che quanto sei bello c'hai una pistola da qualche parte te lo chiedo eh non hai il pene fratello ancora una eccola ragazzi siamo a silent hill c'ho la sirena di silent hill ma cos'ha formato quelli di sto gioco fatemi capire di qua Samantha che bello che piacere ah no è andata via brutta troia dove cazzo eh il macete ragazzi col macete faccio i culi fatemi testare scelta zio devo solo provarlo devo solo devo so ecco fermo stai fermo stai fermo e non funziona un piano è uguale all'altro non è cambiato niente devo girare la gente nuda bastardi c'hanno il pene dritto cosa fanno è tipo un documentario ticos uomo deficientus camminava su due gambe a stento e quando trovava la sua donna cambiava completamente direzione eccolo lì eccolo che va ad accoppiarsi ecco la donna scappa o vanno ad ingroppare l'albero o la donna scappa una storia d'amore sempre e comunque migliore di twilight guarda lì che fanno i trisom la prima volta che mi vedo uno crepo sono già convinto permesso sento tipo qualcuno che ha l'alitosi comunque è comodo mettere un tavolo così come ci passano le persone che vanno laggiù è una roba di è una tragedia ciao come stai zio mi è arrivato anche un messaggio vuoi rispondere tu abbracciamo se ma è anche quasi ucciso lurido stronzo che cazzo è si dio ti ringrazio è stata una roba è tragico trovare pistola in sto gioco ma ce l'abbiamo fatta magari poi sparo ed è scarica ma non lo so continuate a farvi le seghe in 3 non è un problema cazzo ragazzi ce la faccio pam oh cazzo mi è andata la pistola per cosa raga non ha se non spara zio non mi toccare che ti denuncio non ci sono non c'è niente bene me ne vado grazie l'uomo corpulentus insieme ai suoi simili e quanti cazzo di simili abbedezi c'è favij in città c'è qualcuno che per caso accoglie a voglia di non avete una torta vero o no vado disorganizzati a cazzo ingroppatevi a vicenda io vado di sopra è stato bello ho trovato munizioni santissimo benedetto gesù mi hanno ingroppato a caso ragazzi concludo qui l'episodio non toccherò mai più un gioco horror del genere ma neanche se mi regalano le pistole perché tanto non sparano ragazzi spero che il video vi sia piaciuto concludo qui l'episodio perché non si può andare avanti così è un oltraggio per qualsiasi altro videogame nel mondo e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto un saluto lasciate un commento mi piace un altro mi piace per Samantha che credo che se li meriti si anche la pagina di facebook è come ogni video trovate nella descrizione se non ci sono restiti iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video bene ragazzi ciao 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 ciao